Gli obiettivi strategici rappresentano la direzione in cui la cooperativa intende muoversi nei prossimi tre anni per l'esattezza. Sono stati stilati e vengono stilati ogni volta dal Consiglio di Amministrazione, ogni triennio vengono rivisti. Questo Consiglio li ha scritti fra settembre e dicembre del 2021. Gli obiettivi strategici sono importanti perché permettono sia ai soci e ai vari organismi della cooperativa di capire quali sono le direzioni organizzative, economiche e anche legate ai servizi in cui muoversi, ma permettono anche al mondo esterno, e per questo è importante anche comunicarli esternamente, di capire dove andrà e quali sono i valori che guidano la cooperativa Il Calabrone. Concretamente